Oh, noi ci proviamo ragazzi E' iniziato il Polar Tour E' iniziato il Polar Tour Buonasera Rende, ciao Siamo a Rende dopo il concerto Siamo giunti in questa zona Festa Erasmus, dicono, dormiremo qui Ciao ragazzi, siamo direttamente a Cosenza Al forno di Canatano Vi presentiamo il nostro forno Questa prima data non finisce mai Questa non finirà mai Questa non finirà mai perché qua a Cosenza Sono 24 ore, sono 24 ore Tutte addio, no, no Cioè, dalla pesa su pesa Dal bala al bar E poi arriviamo al forno Allora siamo in un forno Inforniamo Palermo, seconda data Siamo nel backstage Pippo sta provando il videoproiettore Il piccio starà chiudendo qualche data Per i suoi mille artisti Assolutamente Assolutamente Brutto poi, eh Risvegli Inchiappiccio operativo Bomba Sì, i colleghi sono arrivati Per Biabir Montate qui Poi lui arriva Terzo giorno Favara Provincia di Agrigento L'orso sta per cominciare Provincia di Agrigento Grazie Che non ci ossia con voi Cannone, peschi Che cos'è questo posto? È un museo delle persone Circono le bosche, Ragusa Piccio, una produzione L'uomo che ha scoperto Biabir Ma si dice Biabir o Biabear? Facciamolo dire a lui Come si dice esattamente? Bea Bea? Quindi ho sbagliato Birro è tuo Eh, è birro Voglio salutare Ne approfitto di salutare Luigi Mela Che non esiste Come si chiama? Francesco Pesca Luigi Mela Come si chiama? Gino Pira Otto lettere Gino Pira Saluto Gino Pira Gianni Fuscus Clan Schultz Lainos Non ricordo i nomi Poi Paolo Spaccamonti Come si chiamava? Scammaramont Scammaro Suo fratello Ciccio Che spacca E l'amico Eros Ti prego Vi prego taggatelo E fatemi aggiungere Perché Eros ci ha sconvolto la vita Il barista Bruno Della Fabbrica 102 Non è vero Delle officine Mac Pietro Che è un grande Mi ha ispirato uno stato Dallo sfondo fosforescente Non significa niente E Bruna che è qui Perché stasera Però domani ti saluto Da Reggio Andiamo dai cavalli L'orso che mangia L'asino Può amare Chi inizia? Diccio Hai aperto il collegamento Che cosa volevi dire? Dove siamo? Noi anzitutto Dove stiamo andando Perché non lo vuoi dire? Siamo in viaggio Verso Reggio Calabria Allora posso dire una cosa Io sono Questa è la quinta data Stasera Hai visto? Cioè parla tu Sì sì hai ragione No no Ti volevo Ti volevo lanciare L'ufficio stampa L'addetto stampa Stasera almeno uno di Reggio Calabria Sì Ieri alla Grande Bruna No a meno uno È l'ultima giornata Il locale si chiama Tutti cinque giorni così Buonasera a tutti Buonasera Rezza Calabria Meno uno Grande al posticino Io sono Biadar Mi chiamo Filippo Vengo da Bologna Meno uno Calabria è finita ragazzi È finita Secondo Perugia Bologna Scolificino Prima parte Ok Andata la Grande Bomba Ho messo Cinque stelle su cinque Al piccio punto netto Booking C'è un session Post Polar tour Buonasera a tutti Ah...